Allora noi saremo particolarmente brevi così riusciremo magari anche ad anticipare il brindisi un po' prima delle sette e mezza. Semplicemente volevamo dare una panoramica di quello che è lo statuto che comunque potete trovare sul sito della facoltà in particolare nella sezione dedicata agli alumni e di cui comunque abbiamo anche qualche copia cartacea se per caso qualcuno interessa di avere subito. Brevemente richiamerei semplicemente un attimo gli scopi e inquadrerei un attimo la qualità di soci dell'associazione per cui come scopo primario ovviamente l'associazione alumni si propone sicuramente la promozione della cultura giuridica specie con riferimento alla sua dimensione pratico e applicativa proponendosi di divenire un punto permanente di contatto tra quello che è l'ambito formativo universitario e il mondo poi del lavoro e professionale con un particolare sempre sguardo a quella che è anche la prospettiva comparata e trasnazionale di cui tutti finora abbiamo ricordato essere tratto distintivo della nostra facoltà. A tal proposito oltretutto si è pensato di creare dei gruppi di lavoro che potranno avere natura permanente o temporanea tra i quali ricordo già quello costituito dai dottori di ricerca e dai dottorandi della scuola di studi giuridici comparati ed europei. Inoltre l'idea era quella di creare anche delle sedi distaccate territoriali specie con quelle che sono le zone di maggior provenienza comunque degli alumni quindi si pensava sicuramente a una sede di Verona e a una sede di Bolzano poi si potranno sviluppare anche ulteriori sedi territoriali anche all'estero ovviamente sviluppando e implementando la dimensione trasnazionale. Mi dedicherei solo un attimo brevemente alle categorie dei soci, sono state indicate appunto quattro categorie per cui ci sono i soci fondatori che sono quelli che hanno dato vita proprio all'associazione e quei nomi compaiono quindi nell'atto costitutivo e tra cui potrebbero anche esservi persone che non si sono laureate presso la nostra facoltà. La categoria ovviamente più importante è quella dei soci ordinari a cui invece fanno parte tutti gli ex studenti per cui chi ha comunque conseguito un titolo di studio presso la facoltà non semplicemente la laurea ma anche il dottorato di ricerca o un titolo di specializzazione. Poi ci sono i soci sostenitori che possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche che condividendo i fini dell'associazione vogliano comunque darvi un contributo anche mediante donazioni. Infine si è pensata alla categoria dei soci onorari tra cui effettivamente potrà rientrare anche la professoressa professoressa De Pretis e che comprenderanno sia i laureati onoris causa presso la facoltà sia appunto i professori in materie giuridiche che abbiano insegnato per almeno tre anni presso la nostra facoltà o presso anche un altro dipartimento dell'Università degli Studi di Trento. Infine anche coloro che si siano particolarmente distinti nell'ambito appunto della cultura e delle professioni giuridiche con un particolare attaccamento comunque quella che è la prospettiva del territorio trentino. Queste quindi le categorie. Ricorderei anche che l'iscrizione all'associazione avrà un rinnovo automatico al 31 dicembre di ogni anno salvo ovviamente la facoltà di recesso da parte di ogni associato. ed è gratuita esatto sì questo fosse già stato segnalato anche nella comunicazione. Infine vorrei comunque ringraziare anche l'ausilio comunque la collaborazione del dottor Rossaro perché comunque l'associazione si appoggerà diciamo alle strutture della facoltà e quindi per tutta l'attività amministrativa ovviamente il suo sostegno e la sua collaborazione effettiva sono stati per noi molto utili. Quindi a nome del consiglio direttivo transitorio ringrazio il dottor Rossaro. Grazie Emma a me tocca di parlare delle cariche sociali. Darò qualche breve indicazione sapendo che chiaramente lo statuto le contempla nello specifico. Tutte le cariche sono in parte la maggior parte elettive o le restanti di nomina. Durano tre anni i mandati. Gli eletti possono ricoprire al massimo due mandati consecutivi. In realtà anche il presidente che come dire non è eletto come vedremo soggiace a questa regola. Brevemente sugli organi monocratici. Il primo appunto è il presidente. Il presidente chiaramente è il legale rappresentante dell'associazione. è nominato dal preside, sentito il consiglio di facoltà. Il suo mandato coincide con quello del consiglio direttivo. Tra i soci ordinari, diceva Emma prima, che sono membri del consiglio direttivo il vice presidente è nominato dal presidente e ha il compito di sostituirlo in caso di assenza o su delega. I compiti del presidente chiaramente sono quelli di presiedere l'assemblea dei soci, il consiglio direttivo e di curare l'esecuzione delle rispettive delibere. In caso di, diremmo con un fraseggio noto, estrema necessità d'urgenza può adottare provvedimenti interinali che poi devono essere ratificati da parte del direttivo. Secondo e ultimo organo monocratico, il segretario viene nominato dal preside, non ha un mandato soggetto a scadenza, ad eventuale revoca semmai. Viene individuato tra il personale tecnico amministrativo della facoltà e riveste anche le funzioni di tesoriere. Organi collegiali, questo, l'assemblea dei soci, è composta da tutte le categorie dei soci che Emma ha indicato adesso. I soci partecipano e votano personalmente, salvo delega, in favore di altro socio, purché quest'ultimo non sia membro del direttivo o del collegio dei revisori. Il numero massimo di dedeghe conferibile a ciascun socio, come vi abbiamo comunicato, è pari a due. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per le classiche incombenze, una fra tutte l'approvazione del rendiconto consuntivo e ha quelle che sono le classiche funzioni di controllo e di indirizzo tipiche degli organi assembleari, tra l'altro ratifica, come faremo tra poco, l'ammissione o la nomina dei soci. Come sapete, come insomma tipicamente accade ovunque, si distingue in assemblea ordinaria o straordinaria a seconda di quelli che sono i punti all'ordine del giorno e in base a questo variano i quorum strutturale e funzionale. È preseduta dal presidente o dal vicepresidente dell'associazione. Ora, nel momento in cui lo statuto e l'atto costitutivo sono stati sottoscritti, si è deciso di individuare un consiglio direttivo transitorio senza procedere alla nomina di un presidente e di un vicepresidente. In questi casi lo statuto prevede che si nomini durante l'assemblea il presidente dell'assemblea, per cui se siete d'accordo potremmo chiedere al preside anche questa cortesia a modo di competenza funzionale potremmo dire. Semplicemente presiedere e poi... Andando avanti con... Grazie. Andando avanti con gli organi quadeggiati, il consiglio direttivo è composto da due membri di diritto, due membri nominati, tre membri eletti, totale sette. Uno dei due membri di diritto è il presidente di cui ho detto prima, il secondo membro di diritto è il preside. Il preside nomina altri due componenti, mentre l'assemblea dei soci, da quello che faremo adesso, deve eleggere gli altri, i restanti tre. In particolare due di questi sono eletti dai soci tra gli ex studenti, mentre il rimanente è eletto dai dottori di ricerca tra tutti coloro che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca presso questa facoltà. Le competenze del direttivo assomigliano come spesso accade a quelle delle giunte, cioè sono quindi residuali, tra queste si possono ricordare la costituzione, diceva prima Emma, dei vari gruppi di lavoro o delle sedite centrate. Ancora, il collegio dei revisori dei conti, articolo 12 dello statuto, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti eletti dall'assemblea dei soci, tra i soci stessi, eventualmente qualora le disponibilità non fossero sufficienti a coprire i cinque posti anche tra i non soci. La presenza di supplenti mi fa concludere che si tratti di un collegio perfetto, che ha bisogno quindi della presenza di tutti i propri componenti perché le sedute siano valide, a differenza invece del consiglio direttivo che decide a maggioranza relativa. La carica di revisore dei conti, lo dico per chi si volesse candidare, è incompatibile con ogni altro incarico negli organi associativi, così recita lo statuto. Infine, il collegio dei propri viri ha la stessa composizione dei revisori, quindi tre membri più due supplenti, ma possono farne parte solo i soci che abbiano conseguito il titolo di studio da almeno cinque anni, quindi in questo caso giugno 2010. Lo statuto non prevede in realtà incompatibilità particolari con altre cariche o incarichi, anche se a nostro giudizio sarebbe meglio che i membri fossero tenuti distinti dai componenti del consiglio direttivo. Infatti i propri viri decidono in merito sia alle controversie sull'interpretazione e l'applicazione dello statuto che fungono da arbitri amichevoli dei compositori nelle diti tra i soci oppure tra i soci e l'associazione, come nel caso di esclusione dell'associato. Potremmo configurarlo come un sistema alternativo di risoluzione delle controversie ideato con la speranza di non doverlo mai attuare. Se avete quindi, concludendo, tenuto conto, sono 13 le cariche che necessitano oggi di essere definite dall'Assemblea. Tre consiglieri, cinque revisori e cinque propri viri, così come prevede lo statuto. A proposito di statuto, come consiglio direttivo transitorio riteniamo sia giusto ringraziare anche in questa sede chi do ha redatto e così i colleghi Federica Giovanella, Flavio Guella e Marta Tomasi. Allo stesso modo, essendo io per ora l'ultimo che deve intervenire qui oggi, credo debbano anche essere ringraziati coloro che hanno dato impulso a questo progetto assolutamente inedito per la nostra facoltà e quindi sicuramente il Preside, che ha appunto anche poi non solo da Presidente in ultima istanza ma anche da moderatore dell'incontro e il Professor Antonio Cassatella che ha diretto le fila dall'esterno e si è posizionato in ultima fila. Naturalmente anche Matteo Rossaro che quando l'abbiamo ringraziato appunto era uscito e ovviamente tutti coloro che sono intervenuti non ultima la Professoressa De Pretis. Siamo sempre per l'understatement quindi è normale che due giorni dopo la nomina della Professoressa De Pretis a giudice costituzionale è venuta qui a presiedere a fare un intervento, era ancora elettrice, sull'open access e ovviamente ha iniziato come se niente fosse successo due giorni prima, tre giorni prima e a quel punto è stato mio dovere preciso dire che quantomeno noi non siamo nemmeno tanto per gli applausi però quantomeno ricordare che tre giorni prima la nostra collega era stata nominata giudice della Corte Costituzionale al Presidente Napolitano era doveroso appunto da parte di chi faceva gli onori di casa. Ovviamente il lavoro che è stato fatto da tutti coloro che tu hai ricordato e in particolare direi da Antonio e da Matteo è stato straordinario ed è un lavoro di impulso continuo che dovrà continuare ad esserci quindi non illudetevi non è finita qui e quindi sono molto contento appunto che adesso si siano create le condizioni per procedere. Avete fatto uno statuto che altro che, dottore come vede qui siamo fra giuristi anzi fra iper giuristi, qualche iper giurista c'è perché hanno fatto le cose in maniera talmente complicata che nemmeno in molti stati dell'ex Unione Sovietica secondo me dove pure alla forma tengono moltissimo diciamo ancora adesso soprattutto per mantenere posizioni di potere quindi grazie al cielo non c'è neanche questo Bene, a questo punto cosa devo fare? Approvare le richieste di tesseramento Ok, se tutti siamo d'accordo approviamo le 339 richieste di adesione all'associazione credo che ci sia il parere positivo da parte di tutti ovviamente si tratta di persone che hanno i requisiti richiesti perché sono tutti ex studenti benissimo, quindi abbiamo un'associazione con 339 adesioni Io ancora non mi sono iscritto però forse Posso farlo? Poi forse ero fra i 19 soci o no? Sì, tra i fondatori Ecco, quindi non mi devo iscrivere No, no, abbiamo fatto una doppia iscrizione per motivi di... Vabbè, bene, e poi... E' la elezione delle cariche Ecco, elezione delle cariche Abbiamo ricevuto delle candidature che in realtà ha Lucia Busatta No, beh, ma un po' anche... Allora, dentro mi dica Sì, noi abbiamo ricevuto delle candidature Allora, in primo luogo quella della dottoressa Pellizzari per quale membro del collegio dei propri viri Poi quella della dottoressa Simeoni come membro del consiglio direttivo o del collegio dei propri viri E infine quella del dottor Alessandro Monti per uno dei posti, come dire, a disposizione perché non ha specificato ha una qualsiasi serie delle cariche quindi non ha specificato Naturalmente abbiamo dato un termine per presentare le candidature via mail ma questo non implicava che non si possa fare adesso anzi Ecco, se qualcun altro vuole presentare la propria candidatura non esitate a farlo Matteo... Matteo Borzaga per il collegio dei propri viri Eh? Come? No, lascia Vabbè, poi glielo diciamo Bene, grazie ma ci devono essere appunto credo almeno tre Sì, almeno tre e più tre insomma almeno nove Quindi diciamo che il problema non è quello di dover poi fare delle votazioni ma è quello di riuscire a capire un po' come ecco Prego Stefano Picchetti Stefano Picchetti Per quale organo? Quale? Uno qualsiasi A seconda delle necessità Perfetto, grazie Anche io pensavo di continuare l'esperienza Poi ci sono loro due pure Facciamo candidare automatica Facciamo candidare anche loro Lui ha detto di no Per ora no Per ora no Sì E poi chi manca? Paola Wittmann Per il collegio dei propri viri E quindi il collegio dei propri viri è a posto Sono tre candidati Poi per Servono per il collegio dei revisori dei conti Per il collegio dei revisori dei conti E poi il direttivo Siamo a zero ancora? No Poi certo Fra i giuristi L'ho detto Antonio vuole obbligare una delle nostre Antonio Nome e cognome Elena Elena Visto che altri Per il dotare di ricerca Può essere il consiglio direttivo Perfetto Elena Dai Poi chi altri? Stiamo facendo un pacchetto Praticamente Manca un consigliere? No Tre Ci sono già Poi c'è il Revisori dei conti E poi c'è il consiglio direttivo La signora no Perché era il tempo Quindi il direttivo Esatto Ok Grazie Ok Mi pare che ci siamo Mancano due revisori dei conti Due revisori dei conti Due revisori dei conti Revisori dei conti Eh? Come mancano due revisori dei conti Sembra? Sì 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 No Dei conti Per conti Che non conterranno Però nulla Però Per ora non contengono nulla Siccome è previsto che ci possano anche essere delle donazioni Quando cominceremo Appunto Esatto Quando i dollari pioveranno Appunto E a quel punto E a quel punto I revisori dei conti vorranno Fioccheranno le candidature Un revisore dei conti Poi c'è vero anche i supplenti in realtà Però Non esageriamo Anche i supplenti mi sembra un po' troppo Dai Ho detto che voi siete stati più realisti del re Un po' Un altro revisore dei conti Per favore Grazie Via Grazie No Elisa Di Matteo Grazie mille Adesso È completo il lotto Anzi i vari lotti Perfetto Quindi Se non ci sono altre candidature E mi pare che non ci siano Visto che le abbiamo raccolte Con fatica Direi che risultano eletti Come proviviri Matteo Borzaga Silvia Pellizzari E Paola Wittman Come revisori dei conti Stefano Picchetto Alessandro Monti Picchetti Alessandro Monti Ah questa è una I Complimenti Allora qua anche Dovremmo fare dei corsi di grafia Oltre che di italiano Elisa Di Matteo Grazie Poi per il direttivo invece abbiamo Emma Galletta Elena Gazzetta Pardon La colpa non è mia Diciamo che Non ho nessuna responsabilità Perché la grafia Del dottor Bramvilla È assolutamente impossibile Elena Mitzman E Laura Simeoni Vero? Bene Grazie Complimenti Abbiamo chiuso le operazioni di voto E a questo punto vi invitiamo Nella sala Giustino Dorazio Sì A brindare alla nascita dell'associazione E al resto Grazie Grazie